E lo di fari spenti, 7 e 52 minuti, arriviamo quasi, siamo quasi alle mezz'ora, scusate all'ora, siamo quasi alle 8 ma sapete che il lunedì prima di andare in pausa vi diamo il buon lavoro, anzi lo fa Filippo Poletti, top voice di LinkedIn che tutti i giorni sul suo profilo racconta il mondo del lavoro e lo fa, soprattutto il lunedì qui con noi con la sua rubrica del buono lavoro e quindi linea a te Filippo. Buon lavoro a tutti, settimana speciale, settimana di Sanremo e allora la prima parola della settimana è musica. Sul palco dell'Ariston vedremo sfilare tanti artisti e ricordiamoci che dietro ad ogni artista ci sono tanti professionisti. C'è chi registra la musica, c'è chi la produce, c'è chi la distribuisce, la vende, per non parlare poi di tutto quello che ruota intorno alla diretta RAI condotta da Amadeus. E allora queste sere, quando vedremo e ascolteremo gli artisti e li applaudiremo da casa, ricordiamoci la lezione della musica. A vincere è sempre la squadra. La seconda parola chiave della settimana è lingua. A Sanremo si canta in italiano, ma quali sono oggi le lingue più remunerative sul mercato del lavoro? Un'interessante ricerca condotta da Priplai ci dice che ai professionisti che sanno l'estone, il malese e l'indonesiano sono offerte prospettive di lavoro più remunerative. Buono da sapersi. La terza e ultima parola chiave della settimana è piano B. Quanti di noi non hanno pensato almeno una volta nella vita di cambiare lavoro? Chissà, magari per farne uno più creativo, laddove appunto non ne facciano già uno creativo? E allora questo libro di Vittorio Martinelli, al quale ho contribuito anch'io, ci dice una cosa molto chiara. Dobbiamo avere un piano B, basato su una strategia ponderata ed efficace. In sostanza, mai fare colpi di testa. Buon lavoro a tutti e lo dico da ex insegnante di musica alle scuole medie, buon Sanremo a tutti!